one piece racconta la storia di monkey d raffi e del suo equipaggio variegato i pirati cappello di paglia mujiwara nella loro ricerca del più grande tesoro del mondo il mitico one piece gli inizi di one piece erano modesti ma la serie ha rapidamente guadagnato popolarità il successo della serie è una prova dell'eccezionale capacità di oda di raccontare una storia complessa e avvincente che include sia umorismo che profondo dramma dai primi avventure sulla grand line alle epiche battaglie nel nuovo continente one piece ha continuamente stabilito nuovi standard questo è particolarmente notevole in un settore spesso caratterizzato da tendenze e serie di breve durata il mondo di one piece è straordinariamente dettagliato e vario oda ha creato un'impressionante varietà di paesi culture e specie che si inseriscono tutte nel gigantesco puzzle della serie dalle prosperose città del regno di dress rosa alle oscure profondità di impel down ogni nuova posizione porta con sé le proprie particolarità e sfide questa attenzione ai dettagli è una delle ragioni per cui i fan tornano sempre a seguire le prossime avventure di raffi e dei suoi amici lo sviluppo dei personaggi in one piece è anche una chiave per il successo della serie la ciurma cappello di paglia è un gruppo di marginati ognuno con il proprio tragico passato e il proprio sogno rufi il protagonista è un giovane pirata con un atteggiamento spensierato e una volontà di ferro accanto a lui ci sono zorro un abile spadaccino nami una navigatrice talentuosa e molti altri personaggi indimenticabili questo variegato gruppo di personaggi affascina gli spettatori e li fa investire emotivamente nei loro viaggi e battaglie un altro punto forte della serie sono le epiche battaglie e avventure che la ciurma di cappello di paglia deve affrontare da marineford a dress rosa e all'ultima guerra contro kaido a wano kuni la serie ha portato alla luce numerose battaglie indimenticabili ogni battaglia è un palcoscenico per impressionanti animazioni e momenti carichi di emozione che tengono incollati gli spettatori allo schermo oltre alla storia principale one piece ha anche prodotto alcune storie collaterali e spin off notevoli che ampliano ulteriormente l'universo film come one piece strong world e one piece stampede hanno fornito ulteriori approfondimenti sul mondo dei pirati e della marina e offerto ai telespettatori nuove avventure questi progetti collaterali contribuiscono a mantenere il franchise vivo e rilevante un elemento chiave per il continuo successo di one piece è il profondo legame tra gli autori e i fan della serie oda stesso è noto per interagire attivamente con i seguaci e tenerli informati regolarmente rilascia interviste e aggiornamenti sul progresso della storia che rendono i fan ancora più legati alla serie questa stretta relazione ha portato alla formazione di una community impegnata e appassionata che continua a guidare il successo della serie mentre one piece celebra il suo venticinchino anniversario è notevole vedere quanto profondamente la serie abbia influenzato la cultura pop numerosi omaggi e riferimenti a one piece si possono trovare in diversi media dai videogiochi alla musica la serie ha vinto numerosi premi ed è spesso riconosciuta come una delle migliori serie anime di tutti i tempi il futuro di one piece sembra promettente oda ha suggerito che la serie si avvicina al culmine della storia ma ci sono ancora molte avventure da vivere e segreti da svelare gli anni futuri promettono sviluppi emozionanti sia per quanto riguarda la trama che per le interazioni tra i personaggi i fan possono aspettarsi nuove altitudini e inaspettate svolte che accompagneranno la serie nel suo cammino verso la leggenda in conclusione possiamo dire che one piece è diventato un fenomeno culturale che va ben oltre le sue origini con una storia indimenticabile personaggi adorabili e un fandom fedele one piece ha cambiato per sempre il mondo degli anime resta da vedere quali nuove avventure ruffi e il suo equipaggio affronteranno nei prossimi anni ma una cosa è certa il viaggio è ancora a lungi dall'essere finito autore anita fa che nome giugno 24 fa che avuto Grazie a tutti.